Eccoli, Igor Cassina, il tocchino elettrico, Paolo Bazzoletti, Giovanni Benito! Giovanni Benito, Marco! La prima volta che pedalavo così tanto per 42 km, forse non sono mai arrivato neanche a 10, però vabbè, la cosa importante è il gesto solidale e di sensibilità, ecco, quindi è bello che tutte le persone possano avvicinarsi e scoprire come si può volersi bene con un gesto semplice. Fantastico, veramente un abbraccio bellissimo anche con questi ragazzi con l'agbike, è stato veramente fantastico, è una città che vive con passione lo sport e sport è sia agonismo ma anche solidarietà, voglia di stare assieme, oggi è una giornata splendida. La bici dell'abbraccio è praticamente una bicicletta, un tandem che si guida da dietro in modo che si ha la possibilità di avere il ragazzo davanti e quindi si ha tutte le accortezze possibili per poter appunto andare in bicicletta queste persone che possono magari forse non avere la possibilità con una bici normale. Questa è un'emozione che si prolunga dall'anno scorso, quindi niente da dire, è una giornata meravigliosa, fortunatamente anche il tempo ed avere la possibilità di stare con questi ragazzi è meraviglioso.